Assessore regionale Musman, oggi una tappa importante, un tour sulla 106. Quali sono stati i problemi rilevati innanzitutto? I problemi sono molto diffusi. Noi ci siamo orientati a valutare le condizioni di sicurezza con una interpretazione che abbiamo potuto fare sul campo, grazie anche alla consulenza e alla guida di Fabio Pugliese, che è il presidente dell'Associazione Basta Vittime sulla 106. I problemi non sono tanto legati all'amodernamento dell'infrastruttura, i problemi di sicurezza si rilevano anche nei tratti già modernati. Sono problemi sulle accessi troppo numerosi per una strada statale di questa importanza, che viene percepita all'interno dei comuni quasi come se fosse una strada comunale, ma non è così. La sistemazione di alcuni guardrail, che sebbene abbiano l'idea di dover garantire protezione, in alcuni casi sono vere e proprie trappole, perché rappresentano punti di estrema criticità. Il manto stradale, che in alcuni casi non è soddisfacente e anche la manutenzione, in alcuni casi, che deve essere completata. Non è prova evidente e le recenti alluvioni che penalizzano poi la qualità della strada. Il TUR ha messo in evidenza la necessità di intervenire anche sotto il profilo operativo e il nostro scopo è quello di sensibilizzare chi deve intervenire affinché si possano prendere delle decisioni immediate e operative. Ma il nostro scopo è anche quello di favorire interventi più di tipo strategico, che vanno ovviamente pianificati, immaginando che però questa arteria non è di ovvedenza della Regione, quindi è un'arteria sulla quale lo Stato deve intervenire attraverso ANAS, ma anche attraverso i processi decisionali messi in campo dal Ministero. Noi però crediamo che in questa fase storica i rapporti con il Ministero e con ANAS siano di estremo dialogo, per cui ci permettiamo di esercitare un ruolo di pressione politica, come fanno i territori e come fanno le associazioni sul territorio, che sono tutti soggetti abilitati a dialogare con i massimi vertici e le nostre istituzioni. Tra i tratti in cui si necessita un intervento maggiore e comunque più immediato, lei parlava del tratto Davoli-Guardavanne. Sì, in effetti questo è un tratto estremamente critico, in cui la qualità della strada statale 106 si deteriora molto rapidamente e lì invece, a parte gli interventi di ordinaria e di straordinaria manutenzione che è necessario sollecitare e mettere in campo, lì un problema è un po' più strutturale, è un'arteria che sicuramente rispetto agli altri pezzi della 106 è di sicuro livello più basso e quindi dobbiamo interagire per capire come intervenire con interventi di pianificazione strategica affidata a una progettazione molto più complessa. Noi ormai sono da mesi che ci stiamo battendo insieme a tutti i sindaci del territorio, io sono qui anche nella veste di Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni, nel territorio che va da Davoli a Guardavalle, insieme alle associazioni, come dicevo prima, quella parte buona della società, si mettono tutti insieme per cercare di risolvere i problemi. Abbiamo assunto un impegno con un cronoprogramma, tempo fa, a settembre esattamente, avevamo assunto un impegno dei limitatori di velocità e in un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto sono stati approvati in linea di massimo due sorpassometri o limitatori di velocità che saranno messi nel tratto tra Davoli e Guardavalle, il secondo incontro, quello di oggi con l'assessore Musmanno che a sua volta ci porterà il nuovo responsabile ANAS della Calabria, così chiamato capo aria, non più capo dipartimento, il quale si assumerà l'impegno di una manutenzione straordinaria del tratto che va da Davoli a Guardavalle, inteso come guardarei, le pulizie delle banchine e quant'altro. E poi il terzo step, quello di ottenere attraverso l'impegno dei nostri parlamentari che saranno chiamati in un incontro in questo luogo per poter ottenere dei finanziamenti attraverso il governo all'ANAS per la realizzazione di due rotatori in questo tratto e infine il tanto aspettato progetto definitivo del Megalotto 7 che va da Davoli a Caoloni a 40 km. L'approvazione, ripeto, del progetto, non la realizzazione della strada. Questo è quello che chiediamo, questo è quello che mettiamo, tutti da parte anche l'appartenenza partitica e dire il territorio viene prima dei partiti.